Ragazzi, nonostante io sia in vacanza, siamo qui per i consigli, per la prima giornata della stagione 2020-2021. Dai, mandiamo la sigla. Ragazzi, scusate la location un po' improvvisata, ma sì, sono diciamo in vacanza, ma nonostante questo non potevo non portare i consigli di giornata. Per l'inizio del campionato, il 2020-2021, ma il consiglio più importante che vi darò non sarà a riguardo chi schierare, ma come comportarvi durante questa prima giornata. Ne parleremo tra poco. Prima di iniziare però vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social, vari link utili, tra i quali quello per scaricare a Fantamaster. E attenzione perché l'applicazione che stiamo utilizzando per la Lega Pubblica, la Carmi Specials League 19-20, in descrizione appunto trovate il link per scaricare l'applicazione. E se mi ricordo, vi metto anche il link della nostra Lega. Attenzione perché ancora, cioè vi potrete appunto iscrivervi, create la vostra rosa tramite il mercato libero. E per tutti coloro che mi stanno chiedendo riguardo la prima giornata, o meglio le partite sospese, si aspetterà diciamo il recupero ragazzi. Quindi sarà così per tutto il campionato. Quindi quando ci saranno dei rinvii delle partite, si aspetterà appunto per calcolare poi la giornata. Detto questo, vi invito, nel caso in cui non foste ancora tant'allenatori, cioè iscritti al canale, di unirvi alla nostra community. E inoltre, vi ricordo che domani ci sarà poi la live ovviamente con i consigli di giornata, sia prima qui su YouTube che su Carmi Special TV. Link in descrizione. Tra l'altro ringrazio tutti coloro che stanno facendo la sub, con la quale appunto possono unirsi poi al gruppo Telegram, degli abbonati, ed anche alla Lega Privata. Chiedo scusa a tutti coloro che hanno fatto la sub e ancora non hanno ricevuto la mia email o comunque le mie informazioni. Come vedete sono un po' in vacanza, ma cercherò di fare tutto entro stasera in modo tale che domani potrete fare anche già la formazione nella Lega Privata. Detto questo, abbiamo perso fin troppo tempo, andiamo all'interno. Una novità ragazzi vi devo dire, perché per quanto riguarda il file, vedete all'interno del mio drive, che trovate anche questo in descrizione, trovate l'aggiornamento del file Fanta Classic definitivo, l'ho aggiornato per bene ragazzi, è inutile che ve lo mostri di nuovo, ci sono vari video dove vi spiego come funziona. E ringrazio anche Ludovico Rossini che ha citato appunto il file all'interno di un suo video, ragazzi seguitelo perché è troppo troppo forte, veramente. E vi ricordo anche il nostro store, ragazzi, dateci un'occhiata, spulciatevi se volete acquistare qualcosa magari per l'asta di ottobre, vi potrete presentare in maniera molto ignorante. Detto ciò, andiamo a vedere questa giornata, la prima giornata del Fanta Calcio 2020-2021. Una stagione che promette scintille, ma che inizia con Fiorentina-Torino, due squadre che lo scorso anno hanno avuto un rendimento magari non proprio eccellente, soprattutto il Toro ha deluso parecchio, la Fiorentina si presenta forse con un 3-5-2, dove? Dragoschi, schierabile? Sì, soprattutto se le alternative, come detto, hanno partite o più complicate o comunque non sono eccezionali. Gioca in casa, potrebbe comunque subire al massimo un gol, ci può stare schierarlo. Per quanto riguarda le, dall'altra parte, Sirigu, sinceramente penso che almeno un gol lo dovrebbe subire, forse anche due. Comunque, state attenti, però se le alternative non sono un granché, ci potete dare una chance. A livello difensivo, chi mi ispira di più, attenzione, facciamo così, facciamo così. Prima di dirvi un po' i nomi, ecco, come abbiamo fatto con i portieri, qual è il consiglio maggiore che vi do per questa giornata? Osservate le partite, osservate con attenzione le partite, perché per queste giornate, prima della stagione di ottobre, sarà decisivo provare a scovare qualche nome o capire un po' di chi si fidano di più gli allenatori, chi sta facendo magari bene in questo inizio di campionato e potremmo magari andare a fare delle ottime scommesse. L'anno scorso è stato così, ad esempio, per Kuluzewski, dopo che ero riuscito ad osservarlo bene per le prime giornate, vi ho detto, alla stagione di settembre appunto, vi ho detto, ok ragazzi, se nella vostra Lega è ancora svingolato, prendetelo perché questo è un fenomeno. Poi, per quanto riguarda questa partita, ragazzi, che tipo di partita mi aspetto? Ecco, iniziamo da questo punto di vista. Il Torino sta un po' assemblando i pezzi, mentre la Fiorentina ha perlopiù lo stesso schema e forse anche la maggior parte degli elementi sono gli stessi. C'è la novità a Bonaventura, Ambra Vatti invece è squalificato, quindi non c'è una rivoluzione con il team Viola. Proprio per questo mi aspetto forse una vittoria anche magari di misura, non per forza schiacciante da parte della Fiorentina. Al massimo forse un pareggio potrebbe venire fuori, quindi un risultato magari di 2-1 per la Fiorentina con protagonisti magari un Castrovilli, un Riberi, attenzione anche a lui, e per quanto riguarda magari Chiesa potrebbe far bene anche lui. La difesa della Fiorentina ci punterebbe un po' di più rispetto a quella del Torino. Dall'altra parte invece forse Berenguer potrebbe essere una scommessa per chi l'ha preso in leghe numerose, mentre della coppia Zalzabelotti forse il Gallo, essendo anche rigorista, è quello più schierabile. Per quanto riguarda invece Verona-Roma ragazzi, una sfida ovviamente sulla carta un po' sbilanciata potremmo pensare. In realtà potrebbe venire fuori forse un pareggio, è quello che mi aspetto a livello di risultato. Forse un 1-1 o addirittura un 2-2. Per quanto riguarda la squadra di casa, evitabile forse appunto il portiere e i vari difensori, tra l'altro appunto hanno perso anche con Bulla, quindi un po' di instabilità lì dietro potrebbe esserci, ma invece sono schierabili due terzini, Faroni e Di Marco, perché spingono un po' orecchio. Sì, magari un cartellino giallo se lo possono prendere, perché comunque la Roma spingerà anche come squadra, però potrebbero appunto portarvi magari un assist o addirittura un più tre. Per quanto riguarda il centrocampista attaccanti del Verona, Zaccagnis con Messina, magari per questa giornata potreste anche non schierarlo, perché come ho detto mi aspetto una partita anche vivace da parte della squadra di casa, quindi magari gli scappa un assist o addirittura un più tre. Di Carmine, solo se le alternative non sono granché, perché comunque la partita non è semplice. Per quanto riguarda la Roma, attenzione al ballottaggio in porta, ragazzi, ci sarà per tutto e soprattutto il periodo iniziale, e quindi io vi avevo sconsigliato di andare sulla porta a Roma come scelta, però se avete fatto questa opzione state attenti anche al singolo ballottaggio. Essendo diciamo una delle prime partite, comunque dovrebbero giocare appunto domani, avrete forse qualche informazione in più, peccato che appunto non sia l'anticipo. Per quanto riguarda invece la difesa, attenzione a Carthorpe, non credo l'abbiate preso all'assa, ma magari se ci avete puntato qualche credito o scommessa, dategli fiducia così come Spinazzola, quindi secondo me sarà una partita che sulle fasce potrebbe regalare delle scintille. Sull'altro quarto invece, attenzione, Pellegrini e Nick Darian, se li avete presi puntateci, ragazzi potrebbero far bene, così come Zeko, anche se potrebbe essere un po' distratto, ok? Magari sì, lascia il segno, abbandona la squadra, saluta la Roma con una buona prestazione, però diciamo potrebbe un belino essere deludente, però contro il Verona ci sta secondo me schierarlo. Parma-Napoli invece è strana come partita da analizzare, tra l'altro i due portieri sono accoppiati bene, quindi magari alcuni hanno preso i portieri del Napoli, come sempre però a questo punto schierate i partieri partenopei. Per quanto riguarda la difesa, preferisco appunto quella del Napoli, anche qui a livello di pronostico mi aspetto forse un O2-0 per il Napoli, un 3-1, 2-1, qualcosa del genere. Attenzione tra i protagonisti, potrebbe esserci Zelitsky, gli attaccanti Insigne e Mertens, e la scommessa, per chi l'ha preso, visto che il risultato è il centrocambista, Politano. Secondo me questi quattro giocatori potrebbero farsi assist e gol a vicenda, quindi magari qualcuno fa l'assist e qualcuno la mette dentro. Potrebbero spingere anche Di Lorenzo e Mario Ruili, preferisco rispetto ai centrali. Dall'altra parte invece, un po' una giornata che potrebbe non essere super positiva, c'è l'esordio di Liberani appunto in campionato, con il Parma, sinceramente ragazzi evitare un po' di giocatori. Poi potrebbe venire fuori una sorpresa a livello di risultato, ok? L'unica cosa che mi preoccupa è l'orario della partita. Si gioca alle 12.30, quindi potrebbe non essere proprio semplice a quell'orario andare a fare una partita molto molto agonistica, quindi state un po' attenti. L'unico nome forse da andare a schierare potrebbe essere Kuzka, magari con un calcio di rigore la mette dentro. Geno Crotone invece, attenzione, perché qua iniziamo a studiare un pochettino. Osserviamo questa partita, osserviamo Zajic, vi dico già che ieri ho fatto un'altra asta e neanche in quest'altra me l'hanno lasciato. In realtà no, era l'unica dove Zajic finalmente era in lista e ragazzi me l'hanno alzato parecchio e l'ho dovuto mollare. Proverò in caso a prenderlo con qualche scambio, ma osserviamolo. Osserviamolo perché potrebbe essere veramente decisivo in queste prime giornate e potrebbe darci un po' di indicazioni. Per quanto riguarda invece la retroguardia, tra le due ovviamente preferisco la squadra di Kasia, come Perin appunto, e tra i difensori forse la scommessa Ghiglione e Crescito ovviamente, che tra l'altro se dovesse essere confermato questo modulo è il 3-5-1-1 o una roba simile, potrebbe Crescito essere quindi a lungo fascia, potrebbe trattare magari qualche assist e spingere parecchio. Per quanto riguarda invece il Crotone, attenzione perché c'è stato l'infortunio di Ben Ali, quindi non dovrebbe far parte della partita, Simi potrebbe essere un buon nome, essendo anche rigorista ci può stare per chi l'ha preso come scommessa, dargli una chance. Passiamo a Sassuolo Cagliari, attenzione perché questa partita mi preoccupa, mi preoccupa perché entrambe le squadre hanno un assetto abbastanza offensivo, soprattutto il nuovo modulo del Cagliari con il 4-3-3, voglio un po' capire come potrebbe funzionare. A livello di pronostico, cosa mi aspetto? Mi aspetto una partita ricca di occasioni, con qualche gol, quindi un 2-1 per il Sassuolo, 2-2 o addirittura 3-2 per il Sassuolo. Da schierare ovviamente Ciccio Caputo, Diuri Ciccio per il centrocampo, Verardi anche se qui spunta leggermente in ballottaggio e la scommessa potrebbe essere anche Locatelli. Locatelli a livello di prestazione, magari si prende un 6-6,5, però attenzione che può prendersi anche la munizione. Evitare i forze difensori, attenzione anche al ballottaggio per quanto riguarda i terzini, qui mettono Toljan, però non lo sapremo fino alla fine, ma con la questione delle 5 sostituzioni in Lega è molto numerosa e potete dare una chance anche agli altri. Chiri a Copulos ci può stare, anche se come detto con il modulo offensivo del Cagliari potrebbe avere qualche insidiem in più, evitare i consigli a questo punto, forse evitare anche i Cragni a meno che non abbiate modificatore di difesa. In quel caso magari può prendere una buona valutazione, ma prenderà anche qualche gol. Per il Cagliari invece, Snandez, va bene come quarto slot per prendersi un buon voto. Sottile, la scommessina, attenzione Sottile, ragazzi, osserviamolo anche lui in queste giornate, soprattutto visto l'infortunio di Pereiro, potrebbe regalare qualche gioia a chi l'ha preso come scommessa. La copia Simeone, oh mio Dio, sputacchiata un po', Simone e Gio Pedro potrebbe essere schierata, ma sinceramente solo appunto, se devo dire un nome, magari Gio Pedro che è rigorista. Simeone potrebbe avere qualche chance, vedremo se la sfrutterà. Per quanto riguarda invece Juentus Sampdoria, ecco, questo è forse uno dei primi anni dopo un po' di tempo che la vincitrice del campionato poi non inizia appunto la stagione successiva, se non sbaglio sempre è stato così di recente. Ovviamente ragazzi, da pronostico, si attende la vittoria della Juventus. Non sarà così scontata, nel senso che la Samp, a mio giudizio, proverà ad equilibrare un po' il match. La potrebbero decidere i giocatori più forti, quelli super potenti, ecco, della Juventus, ovvero Kulusevski, Ronaldo e attenzione anche ai subentranti, ovvero Douglas Costa, potrebbe entrare a partire in corsa ed essere decisivo, abbiamo invece un Dybala un po' acciaccato, in forte dubbio appunto contro la Samp, quindi monitorate questa situazione. Da osservare un po' il modulo che utilizzerà la Juventus, qui si parla di 3-5-2, quindi vedremo se sarà effettivamente così con Kulusevski, addirittura schierato in attacco, sarebbe qualcosa di clamoroso per chi l'ha preso ovviamente come top di reparto, ma sarà ancora più clamoroso la fascia. Attenzione, a quadrato è chi ha Alexandro e Pellegrini, vedremo chi dei due giocherà, o meglio, in teoria Alexandro dovrebbe essere fuori per il problema muscolare, quindi spazio a Pellegrini che magari si mette in mostra e riequilibra il discorso sulla fascia sinistra, quindi magari il leggo numeroso sarebbe il caso forse di prenderli in coppia, chi non l'ha fatto lo può fare poi ad ottobre eventualmente. Della Samp ragazzi è difficile consigliarvi qualcuno, l'unico forse è Quagliarella che è rigorista, ok, addirittura ci sono state news di mercato per quanto riguarda la Samp, sono sincero, non mi ispira tantissimo, cioè nel senso proveranno ad equilibrarla, ma mettendola sul piano fisico, non sulla qualità. Quagliarella, Ramirez, la scommessa Bonazzoli sono i più appetibili, ma potreste avere altre giornate nelle quali schierarli. Milan-Bologna, invece qua possiamo già cogliere qualche informazione interessante. Per quanto riguarda la difesa dovrebbe non esserci Romagnoli a causa appunto di infortunio, quindi forse la difesa sarà con Chiere, Gabbia, lì punterà secondo me Mijlovic, sul fatto appunto che magari del non equilibrio nella difesa del Milan, quindi attenzione, schierabile secondo me Soriano potrebbe inserirsi spesso in aria a far bene, lo stesso Barro, nonostante la partita complicata contro il Milan a San Siro in trasferta, quindi loro due secondo me possono essere schierati, ovviamente se avete alternative migliori potete anche andare su altro. Mentre sul discorso del Milan, ovviamente Teo Hernandez non si lascia fuori, per quanto riguarda il centrocampo lo stesso discorso per Cialanoglu e Castilieco, che anche nelle amichevoli precampionato mi è sembrato pimpante. Attenzione al ballottaggio con Diez, potreste già dargli una chance, magari da subentrato, sì, però l'importante è che lo osserviamo, soprattutto per chi fa l'asta più direttamente ad ottobre, la prima potreste già accogliere qualche informazione su questi giocatori. Rebic e Ibra, se li avete, schierateli perché potrebbero portarvi dei bonus. Passiamo a Benevento, Inter, qui ovviamente la favorita è la squadra di Conte, attenzione, in realtà ovviamente parliamo di una squadra che sarà posticipata, quindi è difficile farvi un'analisi per una partita che verrà giocata poi il 30 settembre, non abbiamo informazioni sulle formazioni, quello che vi posso dire è puntate sui fedelissimi di Conte, ok, appunto i soliti nomi, Lukaku, Martinez, Zintoria, Young, Akivi e forse per il centrocampo Barella. Attenzione anche a Sensi, potrebbe essere la scommessa della partita, ovviamente del Benevento, difficile consigliarvi qualcuno. Ovviamente parlo per coloro che aspetteranno il recupero, ma io vi consiglio di fare sempre così, almeno quest'anno al massimo mettere qualche clausola su un sei politico, in caso di, diciamo, inferiorità numerica nella formazione schierata. Ovviamente lo stesso avverrà, diciamo, per la Lega pubblica, ok, ci sarà appunto l'attesa per il recupero, però ovviamente in quel caso dovesse esserci qualche zero, pazienza ragazzi, io aspetterò comunque per il calcolo, o al massimo farò un calcolo e poi il ricalcolo. Per quanto riguarda l'Udinese Spezia, stesso discorso, e anche per Lazio-Atalanta. Detto ciò, ragazzi, è inutile ragazzi dirvi sempre qui per questi giocatori, puntate sulle sicurezze, ok, stesso discorso per l'Udinese, un po' più avvantaggiata, soprattutto potreste puntare anche sulla difesa, magari chi ha puntato su un musso gli può dare una chance, stesso discorso per Lazio-Atalanta, però qui, attenzione perché potrebbe venire una partita un po' più vivace, quindi battaglieranno, schierate semplicemente i giocatori più offensivi, che potrebbero darvi qualche bonus, mentre eviterei forse difensori e portieri. Va bene, state un po' attenti. Detto ciò, ragazzi, io vi auguro già buona fortuna per questo inizio del Fanta Calcio 2020 e 2021. Ovviamente, come detto, ricordo il link in descrizione, spero possiate iniziare al meglio, ok, questa sorta di inferno, che sarà il Fanta Calcio 2020-2021, perché l'abbiamo visto già, stati chiusi, speriamo possa proseguire tutto per il meglio, senza contagi, eccetera, eccetera, ma non solo per il Fanta Calcio, per il benessere di tutti in generale, quindi, che dire, buon Fanta Calcio a tutti e che vinca la nostra squadra. Ovvio. Ciao, ragazzi.